18 settembre, Remember Point 2015, Matteo Montanari! In tanti saranno, la loro forza io sento, grande, perché quel posto, il nostro Pottichi, molto più di una discoteca è. Terza edizione, c'è poco da dire signori, questo è il remember del profumo dei ricordi, della gente che si emoziona all'ingresso, della voglia di tornare alle vecchie compagnie anni 70-80. Tutte sensazioni genuine che spesso vengono dimenticate. Comunque signori, si comincia con la musica anni 70-80, diamo inizio al terzo remember. Matteo Montanari, si inizia! E noi vogliamo salutare anche Stelle, il nostro sponsor, e tutti gli amici di Radio Sound, che ci stanno trasmettendo live in FM streaming questa grande serata. Ciao a tutti, ovunque voi siate, questo è Remember Point 2015. Benvenuti a tutti! Questo terzo remember l'abbiamo iniziato così, nel pieno degli anni 70. Buonasera a tutti, benvenuti! Buonasera a tutti! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501